Questo programma è presentato da... 2 Ando... Fa caldo... 3 3 Buonasera, benvenuti nella mia cucina. Ora ci prepariamo il popcorno. Primo procedimento. Prendere una bustina di popcorno e mettere l'apposito contenitore. Punto 2. Prendere il contenitore e inserirlo nella macchinetta. Fatto bene. Prendere il contenitore e coprire la macchinetta. Inseriamo la spina e accendiamo. Non ci resta che aspettare 3 minuti. Dopo 3 minuti il risultato è questo. Adesso non ci resta che aggiungere il salato aromatizzato. QB E il gioco è fatto. Non ci scordiamo di spegnere la macchinetta. E...